Siamo Oss 2017 con Gico, oggi con noi cucina Chiara Canzoneri del ristorante Hendrix di Gorizia e volto televisivo molto noto in Italia perché l'anno scorso ha partecipato a Top Chef Italia. Le sue ricette oggi saranno caratterizzate dalla sostenibilità e dal riutilizzo degli ingredienti. Come primo piatto abbiamo un'interpretazione diversa del prodotto delle cicale di mare, un prodotto di stagione che mi permette di elaborare più preparazioni, quindi abbiamo delle cicale di mare crude, sulla piastra di induzione abbiamo cotto poi la zuppa sempre di cicale di mare partendo da una base di cipolla rossa e pomodorini di pachino. Per finire abbiamo utilizzato il forno Cosmo per la cottura delle cicale a vapore, quindi le abbiamo infornate a 100 gradi per 10 minuti. La cottura ha permesso di mantenere le cicale di mare molto piene e sode, le abbiamo soltanto pulite ed erano pronte per essere mangiate.